che Serna e Borresi ora Gianluca Sebastiani Cervellini vai l'entrata subisce fallo la parte di Luno Nicola e Santis secondo fallo per Luno Nicola due tiri liberi per Gianluca Cervellini due tiri per Gianluca Cervellini vai il primo vai per il secondo a segno Filippo Fertura a delegato Morelli a segno all'altra parte Gianluca Sebastiani ricordiamo che alla fine di questa partita inizierà la cocomerata e a segno Paolo Morelli intanto inizierà la cocomerata e il Nutella Party sia per i genitori che per i ragazzi il tiro da due punti di Gianluca Cervellini ci sarà cambio la prossima vogliono rientrare Andrea Martinelli Fertura, pasticcia e falleggio Sebastiani riparte Morelli a segno cambio esce Paolo Morelli che ha fatto in tempo a segnare i due punti possiamo dire che il suo dovere l'ha fatto De Santis sbaglia Martinelli a segno da sotto un altro gigante Andrea Martinelli meno 13 per la spara che difende ricordiamo che meno 13 nel basket non sono tantissimi punti ma non mancano soprattutto 8 minuti di 10 secondi alla fine della partita tanto il caressio di Sebastiani Gianluca scarico troppo difficile da controllare per Andrea Martinelli quindi palla persa e può ripartire Riccardo Morelli prova subito la tripla sbaglia prova a volare a rimbalzo Cervellini la palla però è controllata da De Santis che sbaglia il passaggio Morelli a canestro Riccardo Morelli la palla è bianca scusate scusate De Santis Palleggio arresto tiro sbagliato riparte Cervellini passo tiro scarico per nessuno poi la palla fortuna Palleggio arresto tiro tripla che non va rimbalzo attenzione steppata di Riccardo Morelli che però dopo rimbalzo la palla sui piedi la palla è blu c'è un gatto di tutto il torneo è questa è messa a blu fortuna blocco di Martinelli un bel fallo Filippo Fortuna può ripartire un resi sei punti consecutivi sbaglia ancora De Santis non riesce a segnare poi sbaglia anche lo scarico Sebastiani Celluca falla bene Morresi Cervellini prova la tripla che sbaglia fortuna prova a partire e va a segno Filippo Fortuna San Giuseppe Morelli che appoggi il giotto a mano un bel canestro non lo sta in contatto stoppata 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 frettale di Cervellini senza fallo eccolo il fallo su Riccardo Morresi fallo di Donovico De Santis terzo fallo risinamente con il suo compagno di squadra terzo fallo per De Santis due tiri liberi per Riccardo Morresi ma a segno Morresi in primo due sentire San Giuseppe San Giuseppe Morresi cambia diventa Giorgio Monterio ed esce fino ad ora il miglior realizzatore per le maglie bianche un'ottanta posso farlo in giocato il 1900 scatto su De Santis che prende palla Sebastiani fortuna allora per Martirelli che protegge spara canestro contro Monteglio si fa segno Sebastiani cambio dopo fortuna adesso il fallo fallo il numero fallo il numero 10 Morresi esce Nonomico De Santis e dentro Riccardo De Nacci deve farsi medicare Nonomico De Santis fallo di Morresi un tiro libero aggiuntivo primo fallo per Riccardo Morresi Martirelli recupera rimbalzo sbaglia però recupera rimbalzo paralogo per Monteglio che il terzo tempo sbaglia fortuna meno di 5 minuti ragazzi per la fine della partita Martinelli il tiro da lui è corto faccio sempre lui assegnalo ben canestro di Andrea Martinelli morresi morresi fallo di Andrinacci fallo di numero 5 Andrinacci secondo fallo fondo Morresi tripla 4 in 2 minuti Martinelli sbaglia Andrinacci sbaglia di nuovo ma mette segno 2 punti e poi Portola c'è un cambio rientra Gianluca Cervellini e esce Gianluca Sebastiani la palla palla sul ferro ed esce Andrinacci si gira vai Cerro Bellini attaccato da Martinelli palla dietro la schiena scarico bellissimo per Morresi che però non realizza Cerro Bellini il tripla che non va rimarci sempre mani bianche palla dietro la schiena per Montenegro a segno Giorgio Montenegro quarto punto fortuna non c'è fallo non c'è fallo perché era dritto con il corpo attenzione anche Montenegro in all'op fallo il Cervellini sul ferro eppertura quarto fallo ricordiamo che il quinto non si esce ma ci sarà un fallo di sportivo 0 su 2 rimbalza delle naci che subisce a fallo fallo il numero 10 Morresi secondo fallo di Morresi di chi era il fallo decidetevi pari o dispari fallo il numero 10 Riccardo Morresi secondo fallo sbaglia il primo sbaglia anche il secondo trocca la palla giardina è bianca è blu scusate è blu è blu è blu è blu mi dispiace ragazzi fortuna vinta la dribla poi palleggio arresto tiro non va rimbalza sempre le mani non delle adrenaci che però sbaglia il passaggio Monterion tutto la cielo sbaglia mamma mia rimbalza Cervellini serva Morresi l'assist per il canestro il tema 68-45 forse una punizione che non meritano scuola il maio blu alza la palla Morresi sbaglia a finelli fai il canestro time out terzo fallo per Morresi time out richiesto da le squadre maio blu la squadra a 33 a centro a 1.52 time out veloce ragazzi andiamo a te che succede a te 2 2 che succede a te a te quindi che succede a te a te a te a te a te a te Siamo ripartiti Scusate, tiro l'iperaggiuntivo Spai il tiro l'iperaggiuntivo Martinelli Rimaccio a Renacci Scolpata di Cervellini Si recupera a palla a Martinelli Renacci palla per fortuna Che segna 1,40 Termina la partita 6,8, 4,9 Palla a Cervellini Prendita la calma E vuole gestire lui il possesso Poi serve Morresi Sbaglia Cubra la palla Maglie bianche Morresi Che con calma gestisce il possesso Ora comincia Sbaglia Voleva la palla dietro la schiena Per andare a canestro poi Ma se la perde Un minuto Martinelli Serve fortuna Assegna Prendita fortuna Tecnico Fallo tecnico al numero 5 Per accesso di proteste Terzo da fallo Dentro di Naci Ricordiamo che i arbitri Sono professionali Cervellini Cervellini Assegno Buon sbaglio Giornalco a Cercanelli Giornalco a Cercanelli Si va ad aggire qua Ma ti basta Tutti in fila indiana Come si usa No come si sa di dire Tutti in rinano Tu stai per 10 La teni tu Giornalco a Cercanelli Fallo Ancora No Come pesta la linea Fortuna 35 Sicurdi che matano Si separano Alla vittoria Fallo e canestro Antisportivo Quindi tre tiri liberi Per Filippo Fortuna Quinto fallo Di Giornalco a Cercanelli Ok Tre tiri liberi Per Cercanelli 27 secondi dal termine Tre tiri e palla Piano 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 ragazzi Piano che ci stanno i figli Zero su due Filippo Fortuna Zero Ne erano tre tiri liberi Uno su tre Scusate Ho sbagliato io Quarto fallo Per Riccardo Morresi Due tiri liberi Per Filippo Fortuna Si preparino intanto Le altre due Le altre due Finaliste Alla categoria Sordienti Che si sfideranno La squadra Sant'Andrea Contro La squadra Incagellata Incagellata Uno su due 24 secondi Ragazzi Che vi separano Dalla vittoria finale Che regalerà Al quartiere Al quartiere Stadio Tenna E Croce Strada Cento punti Nove Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Un applauso A queste due squadre Che ci hanno dato Una delizia della partita Un applauso Ai campioni Dell'anno 14 Tutti in campo Per la foto La foto ragazzi Veloci Si continua la partita Per il puteggio 70 e 55 Non merita questo risultato A mano La squadra In Magabù La squadra Sant'Andrea Centro Che nel girone Riccita